Buonasera, la strada di Cormac McCarthy è sicuramente uno dei trenta romanzi più belli degli ultimi trent'anni, è la storia di un padre e di un figlio, padre e figlio sono senza nome, sono come dire, il padre e il figlio, perché sono senza nome? Il racconto della loro storia inizia quando ciò che di estremo, ciò che di terribile doveva accadere è già successo, ed è stata una cosa tanto grave, tanto terribile da far perdere il nome, non solo al padre e al figlio, ma a tutta l'umanità. C'era anche un terzo personaggio, la madre, che però purtroppo non c'era fatta e si è suicidata. La strada è un romanzo statunitense comparso nel 2006, vincitore del premio Pulitzer, in qualche modo l'antesignano dei libri post-apocalittici o distopici, che raccontano cosa rimane dell'umanità dopo l'accadimento dell'apocalisse, di un cataclisma. Che cosa in dettaglio è successo non ci viene detto, ma ha poca importanza. Importa che l'umanità sia ridotta a pochi sopravvissuti, che sono diventati ferocissimi gli uni nei confronti degli altri, importa che il mondo è diventato massimamente inospitale. Insomma, sembra proprio che non valga la pena andare avanti, ma padre e figlio continuano a camminare a piedi lungo la strada, affrontando tutti i pericoli di un mondo terrificante e inospitale, sperando di raggiungere il mare perché forse lì c'è un clima migliore. Insomma, si tratta evidentemente di una grande metafora della condizione umana. In una situazione in cui le condizioni di vita sono estreme e sono tragiche, tuttavia c'è qualcuno, il padre prima e continuerà il figlio poi, a ritenere che valga la pena andare avanti, che ci sia ancora la possibilità che vada a finire bene. Un romanzo che ci riguarda tutti. Buona lettura.